Bene, grazie anche da parte mia per questo invito, per questa occasione ulteriore di incontro. Direi che ormai ci vediamo talmente spesso che per me è davvero come essere in famiglia, come stare in un ambiente che non solo conosco bene ma in cui sono pienamente accolto e credo anche sostenuto per quello che l'ufficio della CEI cerca di fare per la scuola cattolica. Protezione dei minori a che punto siamo? Nella mia introduzione mi prendo una piccola libertà, cioè vorrei fare un intervento un po' più ampio del titolo per diverse ragioni. La prima è perché il tema specifico di questo pomeriggio, la tutela dei minori, la protezione dei minori, non è un tema a sé stante in realtà, certo lo possiamo affrontare in maniera specifica, ma è un tema, è un aspetto che rientra a pieno titolo nel progetto educativo globale, complessivo della scuola. Non è una cosa in più da fare, ragioniamo di scuola, di didattica, di educazione, di tutte le nostre, diciamo, della vita ordinaria della scuola, in più questa volta ci propongono anche qualcosa sulla tutela dei minori. Non è un tema che affrontiamo perché è scoppiato l'allarme o sta scoppiando o qualcuno vorrebbe gettare benzina sul fuoco dell'emergenza. Per questo, però, perché sia realmente un tema normale, ordinario, quotidiano, serve ancora, emergerà, penso dalle cose che dirò fra poco, veramente un cambio di mentalità più diffuso. Una seconda ragione per cui la prendo alla lontana, allargo un attimo lo sguardo della nostra attenzione, è che essendo l'appuntamento del vostro congresso, l'assemblea, gli eventi fida e nazionali, per me è veramente un appuntamento ormai fisso, essendo l'occasione ogni anno per vederci, da quando sono direttore ormai da quattro anni dell'ufficio della CEI, non è mai mancata questa occasione, oltre alle tante altre che ci sono, per me è anche veramente l'occasione per fare il punto con voi, molto brevemente, sul cammino della scuola italiana. Quindi a che punto siamo, non solo sulla protezione dei minori, ma a che punto siamo, a che punto è la scuola italiana in questo momento. E vedrete che questi cerchi concentrici ci porteranno poi ad arrivare, non sarà proprio un discorso fuori tema, all'aspetto specifico. Allora, a che punto è la scuola cattolica italiana in questo momento? Vi do tre risposte, richiamo la vostra attenzione su tre aspetti, in maniera un po' provocatoria. La prima risposta è questa, la scuola cattolica, la possiamo intitolare così, la scuola cattolica in Italia una realtà che tiene. Ma fino a quando? Dico una realtà che tiene, perché i numeri del rapporto 2019, dell'ultimo rapporto pubblicato ad ottobre, poco più di un mese fa, del rapporto del nostro centro studi sulla scuola cattolica, sono una piccola boccata d'aria, d'aria fresca. Non succedeva da tanti anni di vedere il segno più, in alcuni indicatori, segno più sul totale delle scuole, ma segno più in particolare sulla fascia delle scuole dell'infanzia. In ogni caso, se noi facessimo il grafico, la statistica dei dati degli ultimi anni, quello di quest'anno sarebbe per la prima volta una lieve inversione di tendenza. Dopo aver registrato meno 100, meno 200, meno 300, a volte anche ogni anno, quest'anno i numeri ci dicono che le scuole cattoliche complessive e di ispirazione cristiana in Italia sono 7.955 contro le 7.933 dell'anno scorso, quindi con più 22. Anche se diversamente distribuite, vi dicevo, crescono circa di una cinquantina le scuole dell'infanzia, abbiamo meno 18 nella primaria, più 2 nella scuola secondaria di primo grado e meno 11 nella scuola secondaria di secondo grado. Ma credetemi, è veramente musica per le nostre orecchie rispetto a quello che era gli anni scorsi. Però ho messo un po' in cauda venenum quel punto interrogativo, ma fino a quando la nostra realtà continuerà a tenere? Perché non siamo autorizzati in realtà ad essere troppo ottimisti. Questa che può apparire, ripeto, un'inversione di tendenza e che noi con molta prudenza e cautela aspettiamo di verificare gli anni prossimi, è in realtà dovuta ad alcuni fattori, il primo dei quali al fatto che abbiamo inserito quest'anno, rispetto alla scuola dell'infanzia, delle scuole che sono censite da parte delle federazioni, ma non sono censite dal Ministero. Quindi ci siamo presi questa libertà, non sono moltissime, ma ci sono scuole che non risultano al Ministero, ma che esistono. Non so come questo possa essere possibile, ma è così. Così come abbiamo anche inserito le scuole della provincia autonoma di Trento, di cui fino ad ora non avevamo a disposizione i dati, perché il Ministero Trento, Bolzano e la Val d'Aosta non ce li ha. O perlomeno non ce li ha in realtà. E quindi, diciamo, questo anche già un pochino può spiegare, ma non è che Trento o le scuole che abbiamo inserito siano poi centinaia. E quindi sicuramente un pochino in questa statistica, in questi dati, influisce anche questi aspetti della rilevazione. Quello che invece continua a essere critico, ed è il segnale appunto che mi fa dire non togliamo troppo presto il punto interrogativo alla scuola cattolica come una realtà che tiene, è il fatto che comunque continuano a calare gli studenti. Da 582.000 che erano l'anno scorso, quest'anno, gli studenti di tutte le scuole cattoliche, dall'infanzia alla scuola secondaria, sono 570.000, quindi meno 12.000. E capiamo bene che se calano gli studenti, il numero delle scuole può continuare anche a rimanere uguale o ad avere piccole differenze, per poco, ma poi in prospettiva ricomincerà a calare anche il numero delle scuole, evidentemente, con tutto quello che ne comporta. Ma perché ho voluto segnalare questo dato sulla scuola cattolica, che può sembrare un dato solo quantitativo, ma non lo è, almeno io non lo interpreto solo in questi termini, all'inizio del nostro pomeriggio, per evidenziare, per sottolineare, e c'entra molto con il discorso che faremo, che stiamo facendo, evidenziare come sussiste ancora una domanda educativa nei confronti della scuola cattolica in Italia. Rimane, dura ancora, una fiducia da parte delle famiglie, da parte dei genitori, da parte della società civile, della comunità in Italia, e quindi anche della Chiesa italiana, nei confronti della scuola cattolica. Un'attestazione di fiducia e, ripeto, una domanda educativa. Questo in Italia c'è, pur fra mille difficoltà. Secondo elemento che vi segnalo, secondo, dicevo, provocazione. La scuola cattolica in Italia, una realtà che vuole stare nel cambiamento, ma senza cambiare, perché, anche qui mi permetto questa sottolineatura, perché è evidente come la scuola cattolica in Italia sia attenta, stia cercando di interpretare e anche di affrontare le novità, le trasformazioni sociali, culturali, educative, che interessano l'intera società italiana. Ne è una dimostrazione quel documento che il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica ha pubblicato l'anno scorso, proprio su Educare nel cambiamento. Voi sicuramente lo conoscete, vi ricordate, è una griglia per il discernimento delle comunità scolastiche, delle comunità educative. C'è tutta una serie di indicatori, di spunti, di riflessione, per capire dove stiamo andando, ma anche dove vogliamo portare, verso quali direzioni vogliamo muoverci. Ebbene, quindi una realtà che accetta la sfida del cambiamento, però a volte comunque, dobbiamo dircelo, sembra che il cambiamento lo vogliamo affrontare, ci riflettiamo sopra, ma non siamo poi così disposti a cambiare qualcosa realmente, nei fatti. Lo dico perché, se guardiamo ad esempio l'indicatore delle scuole cattoliche che aderiscono a delle reti di scuole, i numeri sono veramente molto, molto, molto bassi. Sono circa 8.000 scuole, vi dicevo prima, sono qualche centinaio le scuole che almeno dichiarano di appartenere a delle reti di scuole. Cioè è un numero ancora molto basso, se pensiamo che quella della cooperazione, della messa in rete, almeno di alcuni servizi educativi, se non degli istituti veri e propri, è una delle strategie che invece vengono individuate come particolarmente favorevoli in questo momento. Potrei continuare, do solo un altro riferimento. Sono interessanti i dati che sempre il Centro Studi per la Scuola Cattolica ha pubblicato negli ultimi due rapporti, quello del 2018 e del 2019, sul tema della personalizzazione. Ogni anno noi nel rapporto trattiamo anche un tema monografico e sono due anni che ci siamo concentrati sul tema della personalizzazione, dell'apprendimento e dell'insegnamento, facendo anche una ricerca, un'indagine nelle scuole cattoliche italiane. Ebbene, emerge che più dell'80% dei progetti educativi degli istituti, delle scuole cattoliche, contemplano esplicitamente la scelta della personalizzazione. Quindi, direi una percentuale altissima, esplicitamente dice noi puntiamo sulla personalizzazione. È una scelta qualificante. Una scelta qualificante in mezzo alle altre, perché poi facendo una classifica, diciamo così, chiedendo di mettere anche in una gerarchia, questa viene al quarto posto. Dopo l'attenzione alla comunità educante, la corresponsabilità con la famiglia e l'attenzione all'educazione morale e religiosa, che sono, diciamo, i primi tre nel podio su gli elementi qualificanti, secondo le scuole interpellate, del proprio progetto educativo. Grandissima anche è la risposta alla domanda se, a proposito di personalizzazione, vengono messe in campo delle iniziative di formazione dei docenti, dei propri insegnanti, sulla didattica personalizzata e anche qui, ripeto, troviamo grandissima adesione a questa proposta. Poi però, d'altra parte, vediamo che altri indicatori sono invece ancora molto più bassi. Ad esempio, il coinvolgimento degli studenti o delle famiglie anche dal punto di vista dell'elaborazione del curriculum, oppure la diffusione della valutazione criteriale, cioè della valutazione sul miglioramento, che è una delle tipologie di valutazione più attente alla persona, ai singoli, così come l'attenzione alle eccellenze fra i nostri studenti. Non sono ugualmente diffusi come invece questa grande segnalazione di personalizzazione potrebbe far immaginare. Ecco, perché dico che a volte siamo ancora forse un po' non in contraddizione, ma sì, ci proclamiamo a favore dei principi, ma non abbiamo sempre poi tutti gli strumenti per realmente metterli in pratica. Ma questo secondo punto mi serviva per dire che se, come ho detto prima, c'è una fiducia educativa nei confronti della scuola cattolica in Italia, c'è una domanda educativa nei nostri confronti, ebbene, c'è anche una qualità educativa. Potrei citarevi i dati dell'invalsi che a gennaio pubblicheremo, non lo faccio per motivi di tempo, ma è veramente evidente, cioè nessuno può mettere in discussione la qualità educativa. Allora, se c'è domanda educativa, qualità educativa, allora, ecco, la terza domanda, il terzo interrogativo, provocazione che ci porta nel vivo dei nostri lavori, la scuola cattolica in Italia è anche una realtà a cui si chiede protezione, ma che ha poche protezioni. Uso questo gioco di parole perché è una realtà a cui si chiede protezione, perché nella fiducia che i genitori ci danno, lo sappiamo, sì, c'è ovviamente anche la convinzione che il progetto educativo ispirato ai valori cristiani sia il progetto educativo che vogliono, ma c'è anche tanta domanda di sicurezza, c'è anche appunto tanta domanda di controllo, di protezione in questo senso. Però, dicevo, la nostra scuola cattolica italiana è una scuola che ha poche protezioni, poche protezioni se volete anche nel senso che pochi la proteggono, che è molto esposta, basta vedere quello che succede a livello legislativo o degli altri provvedimenti dell'attualità, ma è anche una realtà che ha poche protezioni nel senso che ha ancora pochi strumenti di protezione per i minori al suo interno. Devo però rilevare un'accelerazione negli ultimi anni e un'accelerazione soprattutto grazie alla FIDE, perché se noi oggi siamo qui a parlare di questo tema io non ho altri, non sono inviti a me, ma non ho altri riscontri, altri segni di iniziative simili sullo stesso argomento in altre realtà della scuola cattolica italiana. Prima diceva Virginia che è merito un po' anche del Consiglio Nazionale di aver messo questo tema sul tavolo e il merito poi noi lo giriamo a Moser Ghizzoni che è il presidente del servizio per la tutela dei minori, il servizio nazionale della CEI per la tutela dei minori, perché essendo stato costituito questo servizio e avendo iniziato a lavorare ha stimolato tutta la conferenza episcopale e compresi i nostri uffici a lavorare in questa direzione e quindi diciamo noi poi abbiamo ulteriormente cercato di passare questa attenzione agli altri ma il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica ne ha già parlato in due occasioni quella che ricordava Virginia nella primavera di quest'anno e nell'ottobre scorso nella primavera fu Monsignor Baturi sottosegretario della conferenza episcopale a venire a dare alcune linee generali di quello che si stava muovendo ora nel mese di ottobre la dottoressa Emanuela Vinai che è poi la coordinatrice del Servizio Nazionale ha fatto un suo intervento era presente anche poi l'avvocato Montemarano nel Consiglio Nazionale e in quella sede si è deciso di preparare e predisporre uno strumento un testo un documento della Scuola Cattolica italiana tutta che si affianchi che venga ad affiancarsi alle linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della CEI sullo specifico del campo scolastico questo strumento lo verrà elaborato nei prossimi mesi dico così perché ancora in realtà il gruppo di lavoro si sta formando anzi approfitto per dire che ogni associazione può e deve indicare qualche persona o almeno una persona per questo gruppo di lavoro e il 2 aprile c'è la prossima riunione in quella sede se non già il testo di questo strumento di queste linee prospettive anche il genere letterario lo dovremo un po' identificare insieme se dare diciamo delle raccomandazioni degli indirizzi ovviamente il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica non è un organismo che può avere un rapporto così stringente nei confronti delle singole scuole però è sicuramente una realtà autorevole quindi a che punto siamo e concluderei così il mio intervento siamo a un punto ancora iniziale in cui però cresce l'interesse cresce anche la voglia di non essere scoperti da questo punto di vista di essere il più possibile ancora di più attenti ai nostri ragazzi ai nostri bambini e quindi che la qualità educativa che ci viene riconosciuta e la domanda educativa che noi raccogliamo trovi risposta anche da questo punto di vista ecco io ho cercato di mettere in un quadro ampio della situazione attuale il nostro tema ma su questo poi Monsignor Ghizzoni Monsignor Lorenzo Ghizzoni che oltre a essere l'Arcivescovo di Ravenna Cervia è il presidente appunto del Servizio Nazionale della CEI per la tutela dei minori e poi l'Avvocato Emanuele Montemarano adesso potranno meglio riempire un po' di contenuti il tema specifico